bello a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video oggi siamo su gt5 online in questo nuovo lts ok partiamo subito ragazzi prima di iniziare lts a parte che l'abbiamo già iniziato vi volevo ricordare se volete seguitemi su instagram link in descrizione e se volete giocare con me il link della mia crista in descrizione aspettate wow 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 si è andato più piano il massacravo aspetta ad aspettare uno è già caduto un compagno ha ucciso il nemico uno c'è sta qua aspetta mamma mia se ti beccavo aspetta entra entra nella casetta entra e ora e ora scendiamo giù e risaliamo su comunque questo lts ha dei colori molto vivaci molto molto belli mi piace mi piace un bello bello acceso questo lts mi piace allora chiedi un nemico ok sfuggito perfetto già un ramo di vincitore avanti vincitore al prossimo round ok eccoci qua con il secondo round allora prendiamo queste pistolina prendiamo questa bellissima moto cross e andiamo 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 spediti lo sapevo che non dovevo andare spedito ma sfruttiamo questa cosa perché potremmo citare quindi saliamo citiamo se tutto va bene prendiamo le armi ok mamma mia stamoto non hai freni comunque le freni taloccate più più che altro ok ok mamma mia che citata mamma mia prendiamo le armi prendiamo le armi ebbene dobbiamo andare veloce perché qui c'è uno spazio ecco infatti ok prendiamo questa bellissima moto anzi prendiamo questa qua arancione ok vai massacriamoli massacriamoli ok aspetta dove su dove sono uno lì uno lì ok e gance ok uno via uno è qua l'altro dov'è l'altro è sopra cosa che sta succedendo qua ragazzi ma che che sta succedendo aspettate facciamo così solo il veicolo e lui dov'è ah ma sta provando a citare o aspettate aspettate aspetta volevi rubarmi il veicolo eh lezzo ok questo round in teoria è vincitore e avviamola subito allora ok ecco qua in attività riavviata siamo la parte delle auto ok cerchiamo di vincere allora vai 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 prendiamo quale auto prendiamo prendiamo questa qua che mi piace mamma mia sali 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 dai 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 ok perfetto vai 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 allora ci dobbiamo ammazzare subito vai 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 vabbè quello la è caduto il suo quindi aspetta 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 è quello di prima mamma mia ui mamma mia che tacchettino pro ok allora risaliamo su quanti avversari mancano due di cui uno si è suicidato e uno l'ho ammazzato io ok 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 allora 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 dov'è l'altro l'altro giù è uno è inattivo lì mi sa se uno uno inattivo ah no no ecco si sta muovendo si sta muovendo ok aspettate dovrebbe uscire ora oh mamma mia se andavo più avanti lo beccavo ma tranquilli che ci ritentiamo ok manca manca solo questo avversario qua perché l'altro si è suicidato mi sa che è caduto eh si si è caduto aspettate in teoria risale da qua eh si e si e si e si non dovevo scendere non dovevo basta ci vediamo direttamente su va è per terra è per terra no dov'è che cacchio è eccolo qua eccolo qua aspetta vieni mamma mia a fare finte suona suona bella bella tanto cadi ora ecco infatti visto il tacchettino che porta sfortuna qua aspetta aspetta cosa è la madonna ora morirà perfetto mamma mia che round ragazzi che round round vincitore prossimo round eccoci qua con il nuovo round allora andiamo subito spediti ragazzi spediti veloci veloci come il fulmine ok perfetto facciamo la città da di prima allora usiamo il nostro secondo piano andiamo 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 perché il primo era di fare le retieste normalmente e non cittare il secondo piano era cittare se cadevo giù quindi ora facciamo il secondo piano con un flip o le mamma mia ma gli altri non si preoccupano di me ah beh meglio per me aspettate aspettate ma già mai che ho mollato prima l'avviso qua aspettate mamma mia voi possibile eh aspettate 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 state tranquilli vi prometto che cito guardatelo quello la come voleva cittare vi ho detto che vi promettevo che citavo in qualche metodo e sono infatti vivo cosa ora che mi ricordo manca manca il veicolo come famo rega io non ho promesso niente fate finta che non avete sentito niente allora andiamo vediamo la situazione com'è messa allora sei troppo lontano non salto neanche se è vicino o salto aspettate ma in realtà si potrebbe fare comunque no no anzi no aspetta aspettate oh ma tu tu che mi ha ucciso sei un handicappato cioè ragazzi mi vede lì che non ho la moto mi viene addosso e mi butta giù ditemi sei una persona normale questa ora non mi interessa niente di questa persona qua che si chiama dario sergio 02 anche se è un mio amico metto un sondaggio in alto a destra o sì o no ok partita vincitore mamma mia ragazzi se vi è piaciuto lei di essere lasciate like iscrivetevi condividete aumento di rango 83 e niente ragazzi che dire noi ci vediamo alla prossima bella ria lasciate un like come dice dario ciao 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 ciao